buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 13 giugno 2024 i giornali sono ancora pieni dell'esito della campagna elettorale delle prime mosse per organizzare la prossima tornata anzi la presente tornata amministrativa che dovrebbe durare cinque anni così immagino sarà ci sono ancora ovviamente tutte le contrattazioni tra i partiti che formano le coalizioni quelle di maggioranza per realizzare la giunta e quelli di minoranza per organizzarsi e magari fare coesione all'interno del consiglio comunale vedremo che cosa si evolve nei comuni di fano in quello di pesaro anche nei comuni dell'entroterra e intanto passiamo come sempre attraverso dal manacco del giorno oggi c'è un grande santo che si festeggia eccolo qua è sant'antonio di padova sant'antonio ebbene forse non tutti sanno che non tutti sanno che sant'antonio era un portoghese si chiamava fernando martins de bulloes ed era nato a lisbona nel 1195 era un portoghese era di famiglia benestante e avvertendo la vocazione da giovanissimo prima si ritirò in un convento agostiniano poi siccome voleva andare in missione scelse i frati minori quelli da poco che erano stati costituiti da san francesco santo che antonio stesso incontrò ad assesi e fu un incontro che non destò tanto clamore probabilmente francesco in quel momento ignorò antonio ma i due ebbero una comunione spirituale particolarmente intensa poi girando per la francia e l'italia antonio questo il nome che si era scelto appena era entrato in convento si distinse per la sua predicazione e antonio era un grande predicatore tanto che a padova dove c'è la sua tomba e dove c'è la basilica famosa basilica di sant'antonio è conservata come reliquia alla sua lingua quella lingua che profuse tanta tanto tanto evangelo tanta predicazione tanto amore per il prossimo un giorno fu visto addirittura stringere tra le braccia a gesù bambino in quanto nella sua vita compì molti molti miracoli e morì a padova all'età di 36 anni avendo la visione del paradiso prima di morire e beh insomma sant'antonio è veramente un grande santo un grande esempio della cristianità un grande uomo per i valori che esprime e che valori dovrebbero essere così recepiti a livello europeo questi giorni si riunisce il g7 in puglia si parla di tanti di tanti temi di molte questioni etiche sant'antonio potrebbe essere un bellissimo riferimento e allora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo oggi tempo variabile sulle marche parziali schiarite al mattino poi un rapido peggioramento con piogge temporali anche forti nel pomeriggio in modo particolare nelle aree meridionali nel sud delle marche i venti sulle coste spireranno con una tensione media da ovest nell'entroterra da nord nord-ovest il mare è leggermente mosso le temperature 14 un pochino calata alla minima 24 la massima il sole è sorto alle 5 24 e tramonterà alle 20 e 50 queste le previsioni del tempo una giornata a tante quanto magari approfittiamo della mattinata per fare una passeggiata finché durerà il bel tempo apriamo dunque i giornali questa mattina vediamo che molte pagine sono ancora dedicate alla politica e a e a tutte le ipotesi le idee che potranno così dare un po l'impulso alla formazione delle giunte dei consigli comunali in base ai voti ieri si riuniva ancora la commissione elettorale che vagliava appunto i voti ricevute per l'inserimento dei candidati nel consiglio comunale e vediamo anche la cerimonia più importante che si è svolta ieri a fano ovvero il passaggio di consegne tra emozioni e ricordi ora una nuova storia è l'articolo che leggiamo sul corriere adriatico c'è stato un momento quando il nuovo sindaco ha preso la parola dopo il passaggio della fascia tricolore in questa cerimonia che si è svolta nella sala della giunta alla presenza di tante persone c'erano giornalisti operatori tv dipendenti ex amministratori e soprattutto c'erano i componenti della nuova maggioranza ma c'erano anche coloro che facevano parte della vecchia maggioranza che hanno voluto così accomiatarsi dal sindaco massimo seri il quale era apparso sorridente ma ovviamente nel suo sorriso traspariva molta molta emozione e beh dieci anni di governo non si cancellano con un colpo di spugna rimangono rimangono dentro rimane un po' uno squarcio di vita dedicata appunto alla città dicevo che un sindaco rimane tale per tutta la vita lo ha affermato anche luca serfilippi l'ho visto con stefano a guzzi lo vedo oggi con te gli ha detto dieci anni fa ero dall'altra parte ricordo che ero uscito dal comune un po piangendo perché quando si amministra la propria città si dedica sempre oltre il cento per cento di se stessi e duca serfilippi lo ha approvato subito il primo giorno dopo la sua elezione quando nella notte ha dormito con un occhio sì e un occhio no perché c'era un allerta meteo un allerta meteo di colore giallo e quindi già pensava chissà se posso allertare il coc devo mettere in allarme la protezione civile insomma quando si è sindaco beh si dorme con un occhio solo perché tutto può capitare e ogni momento è buono per tornare in trincea e poi sono un articolo interessante quello scritto oggi da Lorenzo Furlani che ha così riportato il senso di questa cerimonia una cerimonia dal volto umano possiamo dire una cerimonia istituzionale prima di tutto ma una cerimonia che ha destato un po' l'umanità che ciascun candidato conserva dentro di sé ed è bene che lo faccia perché non si può essere aridi amministratori ferri amministratori di fronte ai problemi della gente e vediamo poi invece un'altra pagina dedicata a quest'articolo di spalla a Sara Cucchiarini che è stata la maggiore candidata del partito democratico ha avuto 424 voti la maggiore ha avuto il maggior numero di preferenze ovviamente Cetto Fanesi che era candidato sindaco ma entrerà in consiglio comunale insieme a Dimitri Tinti e a Cesare Magalotti che sono i tre esponenti del partito democratico ebbene Sara Cucchiarini rilascia qualche dichiarazione contenta ovviamente soddisfatta dell'esito elettorale che ha ricevuto frutto del lavoro svolto su diversi assessorati quello del bilancio quello delle finanze ma anche quello delle pari opportunità è un assessorato con il quale ha fondato il pari centro e quindi è stato al centro di iniziative organizzate da diverse associazioni ma anche a contatto con tanti singoli cittadini ed è questo che Sara Cucchiarini pone in evidenza e poi esprime qualche giudizio e dice che la perdita e la debacle del centro-sinistra è stata attribuita in modo particolare alla divisione alla incapacità delle parti delle componenti di questo arco arco amministrativo di non aver raggiunto un'intesa e questo ormai è palese a tutti. Invece carichi 80 sul sindaco Massimo Seri da parte dei progressisti che ieri hanno convocato una conferenza stampa del dopo voto così possiamo definirla. La sconfitta elettorale colpa di serie del partito democratico hanno ribadito i rappresentanti di questa coalizione a terza classificata a livello elettorale. Hanno detto così perché poi ci sono stati giudizi che hanno ribaltato sui progressisti la responsabilità della perdita del centro-sinistra infatti sommando i voti ottenuti dal centro-sinistra e dai progressisti probabilmente Ser Filippi avrebbe dovuto andare al ballottaggio e allora lì le cose si sarebbero giocate nuovamente. Le accuse dei progressisti che negano un patto preventivo con Fanesi non c'era alcun accordo hanno detto il programma e il risultato del 19% aprono ora nuovi orizzonti politici. Occorre costruire un nuovo rapporto con il partito democratico, ha detto Stefano Marchigiani il quale ovviamente non ha rinunciato a dire la sua, a criticare quello che è avvenuto così come più duramente ha fatto Tiziano Busca del partito socialista il quale aveva un po' il dente avvelenato con Massimo Seri il quale aveva rinunciato al suo partito di origine e si era iscritto al partito di calenda, al partito di azione. Ma sono andati giù pesanti anche Teodosio Auspici di Fano Ribella e Luciano Benini di bene comune come Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle unico rappresentante di questa forza politica in consiglio comunale. Infatti il Movimento 5 Stelle ha avuto una perdita piuttosto rilevante di voti e riflessi per quanto riguarda il 2019 quando aveva avuto una buona affermazione ma allora aveva una candidata sindaco come Marta Ruggeri questa volta non aveva un candidato sindaco. Ebbene lasciamo un po' la politica di Fano poi magari riprenderemo quella di Pesaro e quella degli altri comuni del territorio per dare un'occhiata alla cronaca perché abbiamo un risultato interessante, un risultato importante ottenuto dai carabinieri di Fano al comando del capitano Maximiliano Papale. rubano soldi e carte di credito ma sono stati subito arrestati dai carabinieri bloccati in tre dopo il furto di una borsa dall'auto lasciata aperta da una donna. Il tutto è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale di Bellocchi, il Fano Center. La donna era arrivata con la sua macchina, è un comportamento abituale, quella di questa signora che abitualmente dà da mangiare ai gatti, ai gatti randagi. Era scesa dall'auto con la ciotola per appartarsi un pochino in modo da non disturbare i clienti del centro commerciale per dar da mangiare ai suoi beniamini quando lasciando aperta purtroppo la portiera dell'auto con la borsa appoggiata sul seggiolino, quest'ultima la borsa è stata afferrata repentinamente da alcuni individui scesi da un'auto. Si tratta di un'auto, vediamo un attimo se mi ricordo la marca di questa auto, sì, una Nissan Juke nera. Ma il fatto era stato notato anche da alcuni testimoni. La donna, tornando nell'auto, non ha visto più la borsa, si è spaventato, ovviamente ha chiamato il 112, ma fortuna ha voluto che in quel momento passasse un'auto dei carabinieri in normale servizio di controllo. Ebbene la pattuglia si è fermata, dai testimoni ha appreso che è stata una Nissan nera a effettuare il furto, ha cominciato a perlustrare la zona, la pattuglia, e ha trovato questa auto in un parcheggio lì vicino, quello del Burger King. Dentro c'erano tre individui, due di Reggio Emilia, uno di Roma, insomma, poi li hanno fermati, loro avevano nascosto la borsa, ma poi l'hanno trovata e hanno ammesso il furto, e sono stati appunto, l'arresto è stato poi convalidato dal giudice, ma sono stati poi rimessi in libertà, però dovranno rispondere di furto aggravato di fronte al giudice. Insomma, un arresto molto molto veloce, una conclusione delle indagini molto molto veloce dai carabinieri, e questo deve essere apprezzato. E poi ieri sono state presentate due iniziative importanti. Prima di tutto un convegno, un convegno organizzato da due associazioni. Si tratta dell'associazione Cuocca e della associazione, vediamo un attimo, ve lo dico dopo, quando trovo il nome della Stamira, ecco, due associazioni, Cuocca e Stamira, che si interessano un po' dei primi mille giorni di vita di un bambino, e quindi anche del modo di fare la mamma dalla neomamma. Sono momenti non facili, non sempre facili, per le famiglie, quelle magari che non hanno un aiuto parentale, ma che hanno bisogno anche di un sostegno di carattere sia sanitario che sociale. Ebbene, un convegno importante che si terrà il 22 giugno, il 22 giugno è che è stato presentato ieri nella sala della comunità Don Paolo Tonucci al Vallato. Si tratterà di una full immersione, inizierà alle 8.30 del mattino, e si propagerà anche nel pomeriggio. Saranno tanti gli argomenti che verranno trattati dal modo di accudire il bambino, dal modo appunto di superare momenti di difficoltà. Si tratta di argomenti di carattere sanitario, di carattere sociale, di carattere ovviamente anche economico, perché poi accudire un bambino riveste una certa responsabilità. Uno spazio significativo della giornata sarà dedicato ai bambini prematuri, su input dell'associazione Prima del Tempo, che si occupa di un versante di interesse sociale rilevante, perché poi i bambini nati prima del tempo hanno bisogno di cure mediche, di assistenza superiore a quelli nati regolarmente. L'altra iniziativa invece la vediamo evidenziata dal resto del Carlino. Si tratta di uno spettacolo che verrà realizzato in diverse giornate dalla Pandolfaccia, dal gruppo storico della Pandolfaccia. Lo spettacolo si intitola Alla corte dei Malatesta ed è uno spettacolo itinerante che partirà dal Pincio, poi si evolverà attraverso le vie della città ed è una storia, una storia drammatica che viene così raccontata con duelli, con rappresentazioni coreografiche, con costumi, con tanta tanta scenografia che sarà costituita in modo particolare dall'aspetto mediovale della città di Fano. La Fano del 1400, una storia d'amore di un semplice fabbro che si intreccia con la storia, quella della S maiuscola. Quindi un punto di vista particolare, non tanto quella dei grandi condottieri o dei signori dell'epoca, quanto quella della gente del popolo che ovviamente si interfaccia con i dominatori, con i capitani di Ventura e con la storia del tempo. Bene, è una bella iniziativa questa della Pandolfaccia che si avvale di un testo, di un copione, scritto dai Cagliesi, Alberto Arseni, 25 anni studente di letteratura e Giacomo Tassi, attore che cura anche la regia di questa novità dell'estate fanese. Allora, vediamo quando si rappresenta. Ci sono sei appuntamenti dal 21 giugno al 22 agosto e poi si articola, poi ci saranno ancora notizie che più vicine alla scadenza della rappresentazione stessa. E qui vediamo un volto noto, un volto noto, quello di Ottorina Mega, anzi di Suor Ottorina Mega, che è deceduta, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto, madre superiore per 50 anni, suora dell'Istituto Cante di Montevecchio di Fano, una figura dolce, una figura di riferimento per tanti anziani, ma anche per tante famiglie che hanno appunto dato i loro anziani a questa istituzione. Era arrivata a Fano all'inizio degli anni 50, originaria di Trevigliano, in provincia di Bergamo. Era arrivata prima come semplice suora, poi era diventata anche madre superiore. era rimasta fino al 2001, quando poi le suore hanno lasciato l'Istituto Cante di Montevecchio, si sono ritirate dalla struttura per andare ad abitare alle Zavarise. La nostra città deve molto a questa donna, ha detto Giovanni Di Bari, che è il direttore del Cante di Montevecchio, il presidente anzi dell'associazione, non solo Fano, ma anche la provincia, l'intera regione e con essa tutto il centro Italia, che ha affidato al Cante la sorte di giovani vite bisognose di cura. Infatti, sua rotterina Mega si occupava in modo particolare delle ragazze madri, ma anche dei bambini che aveva ricevuto alla sua custodia. Quindi un commiato veramente fatto con il cuore. Torniamo al Corriere Adriatico. Abbiamo qui l'articolo che riguarda, dicevo, il convegno dei primi mille giorni di vita di un bambino che verrà appunto realizzato il 22 giugno. Ora, lasciamo Fano per vedere quello che accade nei comuni limitrofi. Ebbene, anche qui abbiamo una notizia di cronaca che proviene da Acqualagna, dove condizioni disumane sono state individuate per dieci lavoratori ed è finito in carcere un imprenditore cinese accusato di dare compensi veramente irrisori ai suoi connazionali che erano stati costretti a vivere nell'azienda in uno stato di degrado. Quindi non venivano rispettati affatto i diritti di questi lavoratori, di questi dipendenti. Il titolare di questa ditta aveva approfittato dello stato di estrema indigenza in cui versavano i suoi connazionali e li aveva costretti a lavorare in maniera non certo consona ad un diritto che loro potevano vantare. Dava anche dei compensi veramente irrisori e li costringeva a lunghe ore di lavoro. Si tratta di un 44enne di nazionalità cinese titolare di una ditta del comparto Tessile, il quale è stato individuato appunto al termine delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pesaro-Urbino. E poi vediamo anche la Val Cesano-Pergola dove c'è stato il cambio del sindaco, anzi un cambio di coalizione. Sabatucci nomina la giunta a Flesce il deputato Baldelli e vice sindaco. L'onorevole Antonio Baldelli si assume la delega di turismo, di accoglienza, di relazioni istituzionali, immagine e valorizzazione ed eccellenze, anche del tartufo bianco. Ebbene, l'onorevole Antonio Baldelli torna ad amministrare la sua città di origine, quella di Pergola, e oltre alla sua funzione di deputato associerà anche quella di vice sindaco. Il deputato Baldelli è vice sindaco, poi abbiamo anche le altre deleghe che verranno date, il sindaco stesso si assume il compito di gestire il bilancio, la governance, l'urbanistica, la cultura, la sanità personale. Insomma, sono veramente delle deleghe pesanti. Andiamo in fretta perché è quasi terminato il nostro tempo a disposizione. Passiamo un attimo al resto del Carlino per vedere questa notizia di Pesaro dove il cascone di Valentino Rossi è a rischio sfratto da piazzale D'Annunzio in quanto nessuno lo vuole più, dovrebbe essere portato vicino al centro Benelli dove c'è anche il museo delle motociclette e lì sarebbe più consono ad evidenziare la vocazione motoristica della città capoluogo. E scatta una raccolta di firme, se ne raccolgono subito 100 appunto per caldeggiare il trasferimento di questa iconografia che a delle verità è un po' ingombrante. Ebbene, con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.